Ecco Lucy, queste sono le ecografie del tuo cervello, temo non ci siano miglioramenti. Il lobo temporale ha sofferto un trauma molto grave, ma secondo noi è questo tessuto cicatriziale che impedisce alla tua memoria a breve termine di convertirsi in memoria antica mentre dormi. Questa condizione è nota come sindrome di Goldfield. Chi è Goldfield? Un brillante psichiatra lituano soffrì lui stesso di un trauma del lobo temporale. Gli ci vollero quattro anni per scrivere le sue scoperte, perché doveva ricominciare sempre da capo. Evidentemente il tuo senso dell'umorismo è rimasto intatto, infatti risiede qui. Magnifica amigdala inoltre. Dottore, avrei una domanda. Sarei felice di risponderti Douglas, ma come ti ho detto tante volte, questo è un locale igienico e la camicia è obbligatoria in ambulatorio. Ah, sì, chiudere. Che figura. Senta dottore, un mio amico ha sperimentato gli steroidi e adesso sogna e si sveglia bagnato. Ci può essere un collegamento fra le due cose? Douglas, lascia stare il bibitone. E per quanto riguarda le poluzioni notturne, fatti una bella nuotata. Comprati una camicia e senza buchi, trovati una bella wahine e portala a cena. Lo riferirò al mio amico. In ogni caso, Lucy, le tue condizioni sono stabili, ma purtroppo permanenti. Mi dispiace tanto, mia cara. Ma poteva andare peggio. Sì, come? È ora che tu conosca Tom Dieci Secondi. L'Istituto Callahan è la miglior clinica neurotraumatologica del vaccino del Pacifico. Siamo finanziati da un filantropo dell'Ohio, TB Callahan, immagnate delle componenti automobilistiche. E ora, signore e signori, vorrei presentarvi il nostro caso clinico più importante. Tom. Ciao, sono Tom. Henry. Marlin. Doug. Lucy. Ciao. Oh, carini quegli infradito. Dove li hai presi? Ti piacciono? È una storia interessante. Ero alla North Shore. Ciao, sono Tom. Tom è... Ah, Henry. Salve. Marlin. Tom ha perso parte del cervello in un incidente di caccia. La sua memoria dura solo dieci secondi. Ho avuto un incidente. Ma è terribile. Non ci pensare, te ne scorderai completamente in tre secondi. Scordarmi? Insomma, che è successo? Mi hanno sparato al cervello. Ciao, sono Tom. Ciao, sono Lucy. Ciao. Ciao, Doug. Ciao. Marlin. Ehi, Tom, ti posso dire un segreto? Certo. Non sei un po' cresciuto per sognare e bagnarti? E' piaciuto a tutti. Ciao, sono Tom. Guarda che ti gonfio, Tom. Stai zitto.